No, no, no! Non accetto, sai! Allora... Allora... Cosa non accetti? Ma che che... Ok, raga, ok, calmi, ok, piano, piano. Perché non prendiamo tutti un bel respiro? Ma che respiro, siamo in tempo di guerra adesso. Respiro! Respiro! Ma ben via, respiro. In tempo di guerra dice respiro. Oddio! Oddio! Oh! Ma io stavo facendo i denti, non lo so usare. Tu cosa hai fatto? Gode! Sì, ma Gode! Ma è uscita! È uscita! Ma che cosa vuoi? Via! Sto cercando a me questo. Vai via! Vai via te! O colpisci giorgio, cazzo! Ma un po' subito! Non posso capire te! Non posso capire te! Perché mi stai colpendo solo per il fatto che sonoro! Ma non è vero! Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Ragazzi... 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 E poi arriva Madze... Starkey! hit dead! Dove è andato? Scusa, Madze, scusa! Non volevo! Scusa, non volevo, ma Non volevo... Allora... mai che ti mi spieghi cosa stai giocando non lo sa neanche lui porca voglia via non lo sa neanche lui e si lo sa non lo sa non fare come colpisce solo a me nel centro di shop ma non volevo venire Ma io volevo colpire Get off Medi vuoi colpire me No ma vedi ma vedi ma vedi che ce l'avete tutti con me Mike Fai qualcosa mi bullizzano Vedi cosa io ma cazzo Scusa è vero è vero è vero scusa 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 Ma a me fai cavolare Mike Scusa Ma per che non le dobbiamo Non le dobbiamo Vabbè Ogni cosa che dico io Dai Madonna Oh ma andai da miraggio fuori Vai 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 Guarda Guarda tra tutte e due Ora io vado da qualche parte Io vado Dove faccio io Porca boia Cioè io sono da solo contro due Da solo contro due Allora Allora arriva Giorgio Porca boia Fermo Mike io voglio via voglio beccare io sto aver niente di merda ma cosa e che cazzo cosa c'entra lui tanto ma è arrivato spavolato lì a cazzo male madonna se ti termino madonna se ti termino qui no niente risalta non è possibile per tranquillizzarmi mi sa pietro mi sa che mi sa che